E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Ficiliari Ciao a tutti ragazzi, vediamo com'è questo nuovo gioco Sì, vabbè Vabbè dai Comunque partiamo i scherzi, gioca mio padre Vediamo come fa, se ci sono tuoni Perché sono qua a morire, non ci sono i tuoni Vai, vai Vediamo Perché mi devi chiedere Però mi devi aiutare, figlio mio È figlio mio Metti le carte che ti pare, proviamo a buttare al tuo caso come prima E proviamo a mettere la prova Vedi il minatore, non lo puoi mettere, figlio l'altro, come io Vedi se ti trovo un tono Usalo lì, usalo lì Vabbè, perché sono Scusate, io ci sto ammazzando Scusate 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 Dovete togliere un po' il volume Scusate 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 E' uno, vabbè. Oh, quello l'ha fatto così. Non so se per la notizia... Ma non lì, ti ho detto che... Non mi ce lo riesco tanto. Manco un hit. Metti il minatore lì, alla torre. Qual è il minatore? Come si parica? Qual è però? Di questo è ancora nessuno. Vabbè, gli hai fatto il capo. Qual è il minatore? Bravo, non ci credo io. Raga, troppo forte. Troppo forte. Hai distrutto tutto. Sì, guarda che c'avevo anche uno che giocava con te. Sennò perdevi. Non lo so, non è detto che perdevi. Perché comunque gli hai fatto le torre. Raga, facciamo l'ultima, poi vediamo come va. Ok. Raga, per favore. Vabbè, speriamo che vi piaccia sto video. Stranissimo. Poi ci erano con mia mamma. Vai, è tutto... Quello era il minatore, tipo. Non c'è cosa lì. Non so che c'è, non mi sa. Che tutto lo mettiamo. I vagabondi. Allora... Devi sapere che un mortaio ha un range alto. Quindi c'è... Metti tipo, dove ci sono più di streghe dove ci arrivano. Ma perché metti la minatore qua? Aspetta. Però sono lenti questi omini eh. Il truppe, il truppe si chiamano questi. Dai raga, 6 o 7, dai. Dai raga, dai raga, mettete sei cosi, dai. Vabbè... Vabbè... E poi deve essere strano. Comunque raga, seguitemi nel gruppo Telegram. Il tronco lo lancia sempre a casa. L'unica cosa che non ti serve è il tronco minatore che... Non fai manco un dato. Allora, seguitemi su Telegram raga, dove ho fatto avviso. Comunque stasera niente live perché... E non c'è qua. E non c'è qua. Qua non vuoi fare non c'è su Zondo su. Ma... Meri che l'hai postato l'Italia poteri solo qua. Ma mi hai detto e li metto anche davanti. Qui ti ho detto li mettono qui. Se andava lì e arriva subito. Ma più fissi. Blocca con lo scheletro. Perché lui ha una bomba bruttissima. Eh, aspettano, vedi che non ho nessuno. Ma ce l'avevi qualcuno. Adesso muore quello che hai messo. Addio. Va bene. Dai ancora un minuto, resistimi. Per un po' a prendere. Tu ogni... La prima cosa che si carica la metti. Aspetta, aspetta. Metti questo qua, il Gran Cavaliere. Aspetta, aspetta. Un tigrand. Quello da setta, aspettalo. Chi è? Questo qua, metti lui, metti lui. Quello là, aspetta. E dove lo mettiamo? Eh, è fortissimo. E dove lo mettiamo? Di chi? Di là, di là. Qua? Posso metterlo qui? Vai. Eh no, lui non è il minatore. Vedi come è forte. Eh, c'è quella roba con questa... Non c'è per... Non c'è per... Non c'è per... Lei c'ha un range. E dove è lui? Non so se ce la ucciderà. Boh, va gigante. Sta vincendo, blocca il mortaio. Blocca il mortaio. E chi sarebbe il mortaio? Niente, ha la morta di su. L'ho già visto. E te dimmi, dimmi. 3, 2, 3. Eh, vabbè te lo dirò. 1. Bravo. Vinto? Sì, vinto anche questa. Meno male che c'era l'amico con il blocco figlio. Vabbè, non ti è piaciuto questo gioco? Bellissimo gioco, gioca a te figlio. Vabbè raga, spero che il video vi sia piaciuto. In caso, lasciate un like, una iscrizione, campanellina e niente. Ayo! Vabbè raga, scusate.